Dopo i viaggi dell'amministrazione ad Ecaterinburg, è Ecaterinburg che viene in riviera per un incontro istituzionale per progettare anche i possibili affari in ambito turistico della prossima estate. Un altro tassello che la Regione Marche insieme all'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto mettono in un percorso, in un solco che è iniziato un anno fa circa attraverso un protocollo di cooperazione, di amicizia stilato dal sindaco di Ecaterinburg, il sindaco Giovanni Gaspari. Sono state gettate le basi per un rapporto di concreta e effettiva cooperazione economica, culturale-economica in vari settori e tra questi il più importante è il settore turistico naturalmente. I prossimi step vedranno l'impegno della Regione Marche, della riviera delle Palme, del territorio Piceno, ancora a Ecaterinburg e poi ancora nella Regione Marche, insomma coinvolgendo gli operatori turistici, coinvolgendo tutti i portatori di interesse per tentare, cercare di costruire dei patti economici concreti e ben precisi. Uno fra tutti che si sta concretizzando è quello di istituire una tratta aerea tra Ancona e Ecaterinburg. Questo sembra aver riscosso moltissimo consenso da parte della delegazione russa, da parte della Regione Marche e naturalmente da parte nostra e a febbraio dovrebbe avvenire a Ecaterinburg un incontro definitivo proprio per partire con questo volo già da quest'estate.